Il prossimo intervento riguarda un'altra sfera di legame tra la ricerca e il gioco. Mareza Bertolo si occupa proprio di game design. Buongiorno, anzi buonasera a tutti. Io sono Mareza Bertolo, sono un ricercatore del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e titolare della cattedra del corso di game design della scuola magistrale in design del Politecnico di Milano e lavoro nell'ambito della ricerca sul gioco e con il gioco. Il mio ambito disciplinare è quello dei game studies e in questo collaboro anche con diverse realtà italiane, in particolare sono uno dei soci fondatori di Playres, che è un'associazione che a livello nazionale si occupa della cultura del gioco. Oggi vi presento brevemente una panoramica su che cos'è questa disciplina dello studio del gioco di cui io mi occupo come ambito di ricerca. È una disciplina che va ad analizzare la relazione soprattutto tra noi umani e il gioco e che grazie all'intervento di numerosi autori provenienti dalle discipline più disparate ci aiuta a riconoscere come il gioco sia una delle caratteristiche più di base della nostra cultura, del nostro essere umani e troviamo tracce di gioco fino dall'antichità e le troviamo sia in un gioco di rimandi tra l'archeologia vera e quella giocosa. Questo è un finto teschio di Pac-Man che è stato esposto in un museo insieme a dei dinosauri e che ci dà però proprio il sapore di come ci possa venire spontaneo crederci che Pac-Man davvero l'abbiamo ritrovato come reperto fossile. È un'opera di un artista statunitense. Questo invece è una fotografia di un vero sito archeologico che forse alcuni di voi conoscono in Qatar dove sono stati ritrovati queste file di buchetti che sono in realtà da parte degli archeologi che hanno fatto il ritrovamento e che lo stanno studiando sono ricondotte a essere una tavola di mancala e così antica, questo credo sia una databile intorno ai 5.000 anni fa poi è descritto chiaramente in un paper. Lo studio del gioco va a collocare la nostra capacità di essere giocanti prima ancora del nostro diventare umani. Quando andiamo a studiare ciò che è stato osservato e definito da antropologi, sociologi, psicologi e studiosi anche di neuroscienze e delle scienze cognitive, vediamo che noi umani non siamo gli unici animali che giocano che ci sono molti altri animali in grado di giocare e che secondo gli studi noi siamo diventati umani quando già eravamo animali giocanti e secondo alcuni studi la nostra capacità di esplicitare tramite il gioco una doppia valenza di significati tale per cui noi possiamo eseguire il gesto A attribuendogli il significato B classico quando giochiamo a sasso carta forbice stringiamo il pugno, guardiamo in modo maligno negli occhi il nostro avversario ma in realtà non stiamo per dargli un pugno in questo nostro essere in grado di attribuire un significato o altro a un gesto molti studiosi vanno a ricondurre la nostra capacità di astrarre il pensiero e quindi di arrivare a una capacità di espressione linguistica tramite simbologie che è quella che ci porta tra le tante cose anche a essere qua e parlare con un linguaggio articolato basato su grammatiche formali non sono la prima oggi a citare Utsinka che è stato un grande studioso degli inizi del Novecento il cui nome è uno dei grandi misteri dei Game Studies perché nessuno lo sa pronunciare bene tranne gli olandesi lui e Cixent Miali sono i grandi scogli della pronuncia dei nomi degli studiosi Utsinka nel 1938 pubblicò Homo Ludens che è stato uno dei pilastri dello studio del gioco come lo intendiamo noi oggi è stato il primo testo a guardare al gioco come a una caratteristica di base degli esseri umani e non come a quella cosa che fanno i bambini che poi a un certo punto bisogna lasciar perdere e non come a quella cosa che è una perdita di tempo svolta solo da nulla facenti o persone che comunque vanno criticate Utsinka in Homo Ludens va a trovare nel gioco una delle nostre attività elementali di base e la riconduce a una definizione formale che è stata la prima quindi molto rudimentale che oggi guardiamo un po' con un sorriso d'affetto alla luce di tutte le ricerche sul come definire il gioco che sono arrivate in seguito ma che comunque ha avuto la forza di definire alcuni tratti fondamentali come lo svolgersi in un ambiente dedicato al gioco seguendo delle regole che non sono quelle della vita normale quindi astraendosi già nello studio di Utsinka che è stato oltre che storico è stato anche antropologo troviamo il legame tra il gioco e il rito tra il gioco e il sacro e troviamo come già i colleghi prima hanno accennato il fatto che nel gioco noi entriamo in una realtà altra in una realtà che è quella dell'immaginario del nostro sapere che stiamo giocando che non siamo più veramente solo qua e che è propria anche dei riti di passaggio delle attività sacre che si va a collocare in un immaginario che ci consente di non essere solo quello che siamo nel nostro quotidiano e che ci dà uno spessore aggiuntivo il gioco è un'attività liminale in questo senso perché si colloca in uno spazio che è al margine al limite tra la realtà e la non realtà è stato Turner nel novecento a definire il gioco per primo come attività liminale nel suo saggio sul teatro ed è un'attività che ci ha portati ci accompagna nell'evolvere e come specie dall'essere prima di umani a oggi e come singoli individui noi siamo esseri che iniziano a giocare da bambini che apprendono molte delle competenze di base delle cognizioni di base da bambini ma che continuano a giocare per tutta la vita a patto che la società sia in grado di liberarsi da quello che chiamiamo il compatto dispositivo dequalificante che è un dispositivo culturale, un meme sociale che fa sì che l'adulto che gioca venga dileggiato, venga additato come un perditempo, un bambinone e quel compatto dispositivo che fa sì che quando noi ci sentiamo dire ma come? Ma alla tua età? Ma giochi ancora? Un po' ci sentiamo in colpa e invece lo studio del gioco ci sta insegnando che alla domanda ma come alla tua età giochi ancora bisogna rispondere con orgoglio e dire sì e allora è far vergognare l'altro che ci vuole additare perché nel gioco noi andiamo non solo a nutrire un nostro bisogno innato che i sociologi, gli economisti senetiani vanno a riconoscere come una delle capacità essenziali degli esseri umani che va riconosciuta e coltivata anche a livello delle istituzioni pubbliche ma andiamo anche a aiutare il nostro processo di crescita di riflessione e di capacità di guardare al mondo con occhi che non sono solo quelli quotidiani filtrati da un tran tran che a volte ci rende anche ciechi i game studies sono una disciplina che in italiano traduciamo come studio del gioco come nome nella quale sono confluite più o meno nella seconda metà del novecento sono confluiti studiosi di praticamente tutte le discipline preesistenti questo perché il gioco essendo così connaturato in noi può essere ritrovato in tutti gli ambiti della sfera delle attività umane tant'è che nei game studies troviamo studiosi, esperti, scolari dall'informatica, dalla matematica, dal cinema dalle scienze cognitive, dalla storia, dal design da una grande varietà e qua io ho elencato le principali quelle più famose, più note però sono solo alcune i game studies sono una disciplina che è dotata di convegni, di pubblicazioni, di ricerche, di scuole in tutto il mondo facciamo tesi di laurea sul gioco con il gioco ci occupiamo di ricerche di varia natura prima Andrea ha raccontato questo progetto justice che stiamo portando avanti con l'università di Modena andando a fare una ricerca sui testi di game studies troviamo una quantità enorme di libri, di volumi, di pubblicazioni, di siti, di blog di studiosi che raccontano anche online i loro lavori ed è un ambito che pur essendo nato veramente recentemente perché si inizia a parlare di game studies forse nel 94-95 a oggi comunque è ormai riconosciuta a livello internazionale come disciplina a sé stante che vede ci ha permesso di tracciare quindi il gioco come un'attività che chiamiamo liminale che si svolge in uno spazio, in un luogo altro che per vari motivi storici che affondano le loro origini in Homo Ludens di Utsinka chiamiamo il cerchio magico chiamiamo il cerchio magico anche quando arriviamo ai giochi più recenti che dimostrano che non esiste il cerchio magico ma continuiamo a chiamarlo così che è uno spazio dell'immaginario uno spazio che è molto difficile da definire e che però noi sappiamo di abitare nel momento in cui giochiamo è difficile magari arrivare a saper dire cosa stiamo facendo quando giochiamo a saper esprimere a parole cosa vuol dire stare giocando ma sappiamo con certezza se stiamo giocando oppure no quindi la propria occezione dell'essere in un momento di gioco oppure no è chiara nell'essere umano medio il gioco è uno spazio che ci permette di andare a uscire dai nostri pattern di comportamento abituali ci sono stati molti studi e uno degli ambiti di ricerca che io trovo più interessanti riguardo al gioco è proprio quello di come quando giochiamo siamo disponibili a indossare dei panni diversi dai nostri a entrare in cornici di comportamento in cornici di riferimento diverse da quelle della nostra quotidianità e a esplorare quindi nuovi modi di guardare alla realtà di reagire agli eventi e di reagire a ciò che il sistema ludico ci porta un esempio che si fa di solito in questi casi quando siete entrati qui nella sala il pubblico, quelli di voi che non sono nel gruppo dei relatori non ha pensato di venire qui alla cattedra a provare le sedie per vedere se erano comode perché il pattern di comportamento del pubblico di una conferenza prevede che si entra ci si registra e poi ci si siede nel pubblico mentre un gioco può portare anche quelli di voi che non sono relatori oggi o che non lo sono mai a interpretare un relatore per qualche motivo e quindi a venire qui dietro la cattedra e fare cose che nella vita quotidiana non fareste mai tutto l'ambito di come i giochi ci permettano di indossare delle cornici di riferimento diverse dalle nostre sono legati poi al mondo del gioco per il cambiamento sociale che è quello di cui io mi occupo in particolare nella ricerca ovvero di giochi che mettono le persone in situazioni tali da stimolare la loro sensibilità empatia o riflessioni relativamente a situazioni di difficoltà, di disagio di varia natura il gioco ci permette di andare a esplorare i significati di quello che ci circonda io ho trovato veramente per caso questa foto online dove vado spesso ad attingere materiale e mi è molto utile perché ci porta, guardandola, a chiederci se il gatto sta violando delle regole oppure no quando progettiamo dei giochi una delle problematiche principali è come far capire le regole ai giocatori nel modo più veloce e immediato istintivo possibile senza mediarle con delle spiegazioni molto articolate o delle simbologie particolarmente arcane questo gatto probabilmente sta violando una regola generica che vieti di calpestare l'erba e se ne disinteressa totalmente come spesso fanno i gatti con le regole che noi cerchiamo di imporgli però non sta violando la regola che vuole che nessun cane nero col collare bianco vada sull'erba che potrebbe essere benissimo espressa dal cartello che vedete nell'immagine il quale rimane vago e va ad attingere alla consapevolezza visiva della cultura di appartenenza delle persone che passano dal parco per fidarsi del fatto che sarà compreso e questo è anche un messaggio molto forte nell'ambito del progetto di giochi il doverci ricordare quali sono le competenze simboliche e le capacità di interpretazione di simboli, di colori, dei codici di mediazione dell'informazione tramite sistemi di comunicazione visiva perché sono quelli che permettono di veicolare il significato il gioco ci permette di andare a esplorare il lato scuro di noi io ho letto qualche anno fa grazie a una collega che me l'ha consigliato un testo fantastico che è Il terribile amore per la guerra di Ilman non so se qualcuno di voi l'ha letto che analizza la nostra relazione di esseri umani con la guerra con la violenza, con gli istinti neri che abbiamo e uno dei grandi pregi della nostra società e che però ha un suo lato scuro è il fatto che noi viviamo in una cultura nella quale per fortuna la violenza quotidiana è ridotta ai minimi termini e viviamo in una situazione nella quale il lato scuro che è in noi la parte violenta, la parte impulsiva, la parte cattiva anche se è un termine che ha un giudizio morale in sé che quindi io cerco di usare poco viene soffocata giustamente il gioco è tra le tante cose è un ambito nel quale noi possiamo in un ambiente sicuro e protetto come è quello del gioco prendere le misure con la parte oscura di noi con il Darth Vader che è al nostro interno e imparare a interagirci in modo più sano senza la negazione che viene indotta ho ancora cinque? bene, ho vinto di essere la prima qui viene dato il tempo il gioco ci permette di affrontare il rischio e di affrontare il fallimento non sono la prima a dirlo oggi però quando giochiamo sempre in questo ambiente protetto e nel quale sappiamo che quello che succede succede solo per gioco possiamo confrontarci con la capacità di fallire e di affrontare il dopo fallimento quando parliamo di game design parliamo di un processo nel quale una persona che ha una base teorica di game studies e una base metodologica progettuale che viene dall'ambito del game design che si occupa di definire delle procedure e dei metodi per arrivare a un buon progetto di gioco genera un artefatto che chiamiamo gioco che viene usato dai giocatori il quale genera un'esperienza ludica un grosso lavoro di ricerca che noi compiamo è quello di andare ad analizzare la qualità dell'esperienza ludica con sistemi qualitativi o quantitativi pre e post per identificare l'efficacia vera di sistemi ludici non progettati semplicemente per essere divertenti dove dietro questo semplicemente c'è un mondo anche di qualità ma di sistemi anche progettati per comunicare sensibilizzare e così via vi lancio lì la palla senza entrare poi nel merito per motivi di tempo legata al fatto che il gioco è un termine pericolosissimo perché in tutte le lingue vuol dire tantissime cose mentre per poterlo trattare a livello scientifico abbiamo bisogno di dare una definizione il più precisa possibile di cosa intendiamo con i vari concetti con cui abbiamo a che fare perché se no facciamo fatica anche a pensarli e il Game Studies tra i primi compiti che si è trovato ad affrontare ha avuto quello di dare delle definizioni di gioco per poterci dotare di un vocabolario condiviso nella comunità scientifica e sapere di cosa stiamo parlando quando diciamo gioco abbiamo una distinzione tra il gioco inteso come paidia cioè il gioco spensierato senza regole che ci trascina via e il gioco regolato il ludus l'asse ludus paidia viene da Calois il ludus è il gioco regolato il mancala gli scacchi Twilight Imperium sono i giochi più seri nel 1978 è stato pubblicato un testo che io vi consiglio di leggere che definisce che cosa vuol dire giocare e che è molto interessante che ci dice che giocare vuol dire decidere di affrontare volontariamente degli ostacoli non necessari che sono quelli definiti dalle regole tutto ciò in un sistema inteso proprio alla Little John che permette alle persone di confrontarsi in un conflitto artificiale con le regole o con gli altri giocatori che determina un risultato quantificabile ma incerto a priori che non possiamo sapere prima in che cosa risulterà perché sapere prima come andrà a finire un gioco uccide la voglia di giocare e il senso di essere in un gioco quando facciamo ricerca con il gioco ci occupiamo di tutte queste parole perché il gioco ci permette di simulare rappresentare rinveltrare filtrare riproporre rileggere e così via e i game studies con il comparto armato del game design che si occupa di progettare giochi da far giocare e da studiare guarda la ricerca sia con il gioco cioè usiamo il gioco per fare ricerca sia la ricerca sul gioco ovvero studiamo come progettare giochi migliori giochi sempre più efficaci chiudo in rush finale con un tocca a voi adesso e vi consiglio un testo che ho scritto insieme a una mia collega ormai che ha finito il suo dottorato e lavora in università con me che si chiama game design gioco e giocare tra teorie e progetto che racconta i principi dei game studies come disciplina andando a collezionare anche contributi di tanti colleghi abbiamo un capitolo sulla teoria dei giochi scritto dal professor Bilancini di Unimore abbiamo un capitolo sul gioco e la narrazione che guarda il gioco come una macchina semantica che genera testi partita scritto dal dottor Ferri ci sono vari contributi e questo è un testo che ha una bibliografia molto densa di rimandi per chi volesse poi approfondire e chiudo invitandovi a partecipare alla tavola esagonale che è il convegno dove anche ritroverete alcune delle persone presenti in sala che sarà in apertura di Play il festival del gioco che è un convegno che quest'anno raduna contributi che analizzano la relazione tra il gioco e la memoria abbiamo avuto delle proposte di relazione sulla memoria del corpo sulla memoria storica sulla capacità mnemonica e su altri modi di guardare alla memoria che non vi svelo perché li sveleremo il giorno della tavola e inoltre dentro Play per quelli di voi che vogliono interessarsi di gioco e di ricerca avremo uno spazio nel quale vengono raccolti e presentati dei progetti di giochi e di ricerca che si possono analizzare e provare e si può parlare con gli autori abbiamo avuto ospiti negli anni di questo spazio ad esempio il professor Chiarello del CNR con i suoi giochi sulla meccanica quantistica e numerose e numerosi altri ho riassunto tantissimo e non ho nient'altro da dire grazie 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 grazie